Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su un nuovo episodio di Minecraft signori Allora, io non ho fatto assolutamente niente rispetto a ieri, siamo perfettamente fermi dove siamo fermati ieri sera Abbiamo dormito, l'unica cosa è che avete visto delle frecce su di me, perché appena ho ricaricato il gioco praticamente i pillager sono usciti I pillager, se non sono loro i pillager? Forse sto sbagliando qualcosa, però vabbè è superfluo Torre pillager, sì, i pillager, no, forse non sono loro i pillager E comunque recuperiamo il lettuccio, signori che ci serve E mi si sono fatti trovare qui all'angoletto pronti ad attaccarmi senza nessun preavviso E quindi sinceramente io mi sono un attimino dovuto difendere ma ho preso delle frecciate come se non ci fosse un domani Allora, qual è l'obiettivo iniziare di questo video? Iniziare di questo video è conquistare la torre, vedere se riusciamo a beccare un corno là sopra Dopodiché signori dobbiamo semplicemente ripartire alla ricerca di un villaggio Io tra l'altro ho visto le coordinate, noi siamo a più di 1000 x e più di 1000 blocchi Signori non va bene, siamo troppo lontani Io poi devo costruire una ferrovia per portarmi i villageri nella mia isola volante E 1000 blocchi, sono tanti da fare con la ferrovia E non è per niente fattibile, quindi dovremo un attimino vedere di riavvicinarci Intanto vediamo un attimino di conquistare l'avamposto dei villager Dei cazzarola si chiamano, di questi esseri lì Allora, datemi la terra subito in mano così appena noi riusciamo a trovare l'entrata Ci infiliamo subito dentro, ci muriamo dentro Ecco, perfetto Ci muriamo dentro E intanto, ah no, non interessa più niente di niente, signori Mettiamo una torcia qui, li illuminiamo Casa loro Io forse devo alzare un pochino il volume però Ok, perfetto Volume alzato E, ok Andiamo a vedere nelle casse cosa troviamo, signori Qui sopra c'è nessuno? No Saliamo su, saliamo su Qui ci rimettiamo un'altra bella torcia Così pagheranno anche la luce Ok Unica cassa Una sola cassa Ma non c'è nessuno? Buongiorno, buongiorno Là ci sono due cose chiuse Però io, lo standard me lo prenderei molto volentieri sinceramente Mi fai prendere lo standard? Vabbè, lo recupereremo dopo Una botta di standardi se io 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 me li porto Quindi, questo già potrebbe essere un bel bottino della nostra esplorazione Vediamo se ce n'è qualcun altro qui Ci riportiamo tutti a casa Sì, sono quattro Ci riportiamo tutti a casa Che ce ne frega a noi Che ce ne frega Qualcosa dobbiamo pur portarci da questa torre Come ricordo, scusami Dove l'ha sparata? L'ha sparata là sotto Va bene Direi che queste due ci bastano Queste quattro ci bastano Assolutamente no, signori Chi se ne frega Noi ce le prendiamo tutte e quattro Questa forse l'abbiamo presa Ok Le gabbie mi sembrano avute Forse c'è solamente un Iron Golem Comunque non ci Forse sono usciti in campagna Sono usciti a pascolare Vediamo che c'è nella cassa Signori Un benemato cacchio Non ci stanno Un po' l'esperienza Un po' l'esperienza Un po' l'esperienza Beh Bellissime Belle cacate Del grano Che non ci serve Solente a niente Tre pezzettini di legno Perfetto Una balestra E delle patate Le patate ce le abbiamo a casa? No Le patate ancora non ce le avevamo a casa Quindi va bene La cassa ci può servire? No Va bene Abbiamo creato tanta suspense Nello scorso episodio Per conquistare questa torre pillager E E' stata una grandissima cacata La rienta L'abbiamo conquistata in 30 secondi Perfetto Recopriamo gli standardi Non c'è manco un pillager Che vuole il nostro autografo Vuole una Una spatata in piena faccia Quante le abbiamo presi? Sei Perfetto Mi vanno bene Allora signori Delusione più totale Delusione più totale Vediamo cosa c'è qui dentro Queste Queste due gabbie Oh C'è un golem Dai Liberiamo il golem Dai Ci manca che lo colpisco E mi ammazza Ci manca che lo colpisco E mi ammazza E siamo tutti contenti Perfetto E lui è libero Qua ci sono quei cosi volanti Neanche per il cazzo Perfetto Bene così Bene così Va bene Ripartiamo con l'esplorazione Qui c'è qualcosa di interessante Assolutamente no Ripartiamo con l'esplorazione signori E allora io sinceramente Tenderei a un attimino Accorciare quelle x Perché stiamo troppo fuori Signori Stiamo troppo fuori Ok che ora ci sarà nuovamente il mare Come se non ci fossero domani Ma affrontiamo il mare signori Ci spostiamo Se no andiamo un po' di là Andiamo di là No ho cambiato idea Bello così Drastico Veloce E in dolore E andiamo in questa direzione Troveremo un villaggio Cazzarola di una miseria Allora signori Non abbiamo trovato il villaggio Ma abbiamo trovato una mega cavernona E qui E qui Parte la La voglia di andare a vedere Come è combinato Tanta roba Tanta roba È bella cicciosa signori Andiamo Facciamo un Un cambio di programma Un cambio di programma Un cambio di programma Che ci potrebbe anche stare Recuperiamo un po' di materiali Dove è il mio piccone con fortuna Qui Perfetto Mettiamo al posto del letto Vediamo di recuperare un po' di materiali Signori Non dico di stare tanto Non dico di stare tanto Però un breve break Per recupero materiali Riuscissimo a trovare qualche materialino Un po' di ferro Un po' di Un po' di carbone Non ci farebbe proprio proprio schifo Quello è carbone Sì quello è carbone Quello me lo vado a prendere Facile facile È veloce È vicino Scusami Perché lo dobbiamo lasciare qua Con piccone fortuna Non dobbiamo nemmeno Stare a raccogliere troppi materiali Signori Ammetteci a cercare troppe cose Dai così Ce ne abbiamo Abbiamo riempito lo stack praticamente Ottimo Ottimo Ci vorrebbe anche un po' di ferro Mi puoi dare un po' di ferro così E io me ne vado velocissimamente Un po' di ferro E me ne vado velocissimamente Come se non mi avessi mai visto Signori Stiamo scendendo Pesantemente Giù Mi sono fatto un attimino Prendere la mano Dobbiamo stare attenti Perché stiamo uscendo con l'acqua E sotto c'è la lava E questa cosa Non va per niente bene Perché se finiamo precisi sulla lava Moriamo malissimo Però se sfruttiamo l'acqua Possiamo scendere un po' più velocemente Ok Così dovremmo essere un po' più salvi Facciamo l'ultimo stint Facciamo l'ultimo stint Ok ci siamo Vabbè ci siamo presi una facciata Terribilmente Però va bene Allora Allora Mi sono fatto prendere la mano Signori Purtroppo sì Purtroppo sì Ho detto di non Di non andare in esplorazione E mi sono fatto prendere invece Alla sprovvista Perché ho detto Può essere che riusciamo a beccare dei diamantozzi Allora della redstone non ci serve La redstone non ci serve Però dobbiamo un attimino cambiare Perché devo mettere le torce Ok Di qua si va da qualche parte Se mi fa passare Forse sì Di qua si continua a scendere pesantemente Ma per andare dove Da nessuna parte C'è questa Aia C'era questa giunzione Con la lava Ma non vedo diamanti No Non vedo né diamanti di qua Però c'è dell'ossidiana Signori Questa ci può servire Per Questa ci può servire Questa ci può servire Perché così ci andiamo Aspettate Questa ci può servire signori Così possiamo costruire il portale Possiamo anche spostarci nel portale del land E vedere se riusciamo a risalire A tornare indietro A trovare la La sabbia delle anime Che ci serve Come Poche cose al mondo Recuperi quei due blocchetti Grazie A quanti siamo? Dieci Mi bastano dieci Sì Dieci blocchi mi bastano Però per non sapere Ne leggerne e scrivere Pidiamo le altre due Dai Dai che ce la fai Dai che ce la fai Dai che ce la fai Prima di morire Dai che ce la fai Prima di morire Dai che ce la fai No Non ce la fa Non ce la fa Ma è stupido Così ce la fai? Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Così ce l'ha fatta Dopo Dopo Non ho parole Non ho comment Non comment Io gli sto continuando Andando avanti E' appena caduto un creeper dietro di me E' appena caduto un creeper dietro di me Bastardissimo Però siamo stati più veloci Lui non ci ha visto Cioè Ci è caduto alle spalle E ci ha perso Non ci ha più visto Maledetta a te E a chi non te lo dice pure Allora Ok Allora Mettiamo delle torce Riusciremo a trovare Là c'è uno scheletro Ok Un diamantozzo Un diamantozzo Quanto meno Dici facciamo Qualche altra cosa Mannaggia 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 Mancato Mancato Lui mi ha preso 2 a 1 per lui 2 a 2 3 a 2 per lui 3 Mannaggia Aia Oh Cazzo sei E' l'ander Ok Ma qui non c'è mai neanche niente Non vedo niente di interessante Decidamente niente di interessante Di qua Niente Sì Torniamo in superficie Questa Excursus Di questa caverna E' stato molto Molto inutile Molto inutile Abbiamo recuperato Solo un po' di ossidiana Che ci serve? Sì Perché prima di tornare a casa Potremmo fare un salto del nether Per recuperare le sabbie Delle anime E cosa varia E vedere se troviamo una fortezza E barabì E barabà Però in questo preciso momento Dobbiamo semplicemente Evitare la lava Tornare in superficie E partire con la nostra Con il nostro obiettivo Signori Cercando di non farci più Distrarre D'altre Tentazioni Signori Abbiamo beccato un portatel nether Che il tanto schifo Non è che ci fa Dovrebbe esserci tra l'altro Una bella cassa Ad attenderci Quindi Io direi 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 E se non direi Lo direi lo stesso No purtroppo Non abbiamo più Non abbiamo più l'acqua Perché abbiamo Preso la L'abbiamo preso il latte Stavo valutando che lì c'è un blocco d'oro In mezzo alla lava Quindi sto facendo benissimo A chiudere tutto cose Dovrebbe esserci una cassa Per noi Può essere? Eccola qui Perfetto Cassa per noi Con Ok Delle pepite Dell'ossidiana Che a saperlo Non ci prendevamo prima Però va bene Non perdavamo quel tempo A prendercelo L'ossidiana Però va bene Tutto questo abbiamo Ma lezione alla scomparsa Te lo puoi tenere tu Allora In genere Recuperiamo questo bellissimo blocco d'oro Che ci sta Tantissimo Recupera Recupera Ok Leva la terra Leva la terra Ho detto Grazie Recupera il blocco d'oro Perfetto E andiamo a cenere di qua Signori Non lo accendo Perché non ha senso Non avrebbe Non avrebbe senso Spostarci adesso dal nether Per cercare In nulla In nulla Stiamo cercando un villaggio Dobbiamo trovare un villaggio In che direzione stiamo andando? Non ne ho più po' l'idea Signori Non ne ho più po' l'idea Di là vedo Sempre montagnozze Proviamo ad andare da questa parte Proviamo ad andare da questa parte Ma lo troveremo un villaggio Signori Incredibile Sono qui da 20 minuti Che sto continuando a girovagare Per mare Per terra E per tutto Non sto trovando niente Non sto trovando niente Non so più nemmeno A che coordinate sono Non so più nemmeno A che coordinate sono Il computer sta tirando Delle laggate terribili Perché sta impazzendo pure lui Aspetta 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 Questo però è interessante Gli alberi di acacia A noi ci mancano Signori Gli alberi di acacia Ci mancano E possono darci del colore Alla nostra bellissima isola Quindi prendiamoci un poco Di alberi di acacia Come se non ci fossero domani E prendiamoci anche Dei sapling di acacia Perché ci mancano Devo fare un attimo Di pulizione alimentare Perché giustamente Non me li sta prendendo Perché? Perché c'ho questo Che non mi serve a nulla E anche queste Che non mi servono a nulla Queste le possiamo trasformare Tutti Così recuperiamo Altro spazio Perché dovremmo anche Recuperare Gli alberelli Gli alberelli Dovremmo trovare Un villaggio Prima o poi Lo spero Lo spero Signore Dobbiamo trovare Un villaggio Prima o poi Non possiamo Fare 8000 episodi Della ricerca Di un villaggio Cioè Mi sembra un poco esagerato E fa bene L'intrattenimento Però 8000 episodi Della ricerca Di un villaggio No A questo punto Metto il seed Su internet Vedo dove cazzarolla Lo trovo un villaggio E vado direttamente Là Senza sbatti Cioè Incredibile Uno fa bene L'avventura Fa bene tutto Ma 20 minuti Così a vagare Nel nulla Più totale Anche no Mamma mia Un villaggio L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Signori Dio grazias Dio grazias Abbiamo trovato Il nostro villaggio Signori Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Dopo più di mezz'ora Di registrazione Abbiamo trovato Un cazzarola Di villaggio Ma porca miseria Ma potevate stare Un po' più vicini Mannaggia a voi E a chi non ve lo dice pure Ma porca miseria Ma porca Tu Tu Ho voglia di insultare qualcuno Tu Maledetto Perché stai scappando Perché scappi Maledetto Maledetto Sì ce l'ho con te Ce l'ho con te Perché Perché stai scappando Perché scappi Perché stanno scappando tutti Gli faccio paura Ok tu sei un muratore Ok Voi non fate niente Bravi Così Continuate così Nella vostra vita Non fare niente Tu non fai manco niente Qui è solo il muratore Che lavora Ottimo Allora Saccheggiamo velocemente Delle casse signori Voglio trovare qualcosa interessante Libro Mela Pane Patate Allora le patate Me le prendo Il pane Ve lo potete tenere Il libro Mi può servire Ma vi lascio Vi lascio Vi lascio Vi lascio Questa pietra Mi prendo il libro Mi può servire Ma il libro Fa sempre comodo Allora Continuiamo il saccheggio La campana me la porto Scusatemi Ma la campana È inutile che mi passi davanti La campana me la porto Signori Come se non ci fossero domani Cosa lascio Questi tre blocchi di pietra Perfetto Il golem Attenzione a non stuzzicarlo Perché sennò siamo morti Alberelli Firlini Un altro libro Abbiamo beccato il villaggio Più povero del mondo Più povero del mondo Signori Però l'abbiamo beccato Però l'abbiamo beccato E ora 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 viene la parte difficile Signori La parte complicata Sembrava trovare il villaggio Ma la parte complicata Ma la parte veramente difficile Sarà portare i villaggeri A casa nostra Signori Quella sarà una grande impresa Dovremo costruire una gran ferrovia Infatti in questo video Non voglio minimamente vedere A che distanza siamo da casa nostra Perché Perché potrei Potrei dare di matto Potrei dare di matto Signori Però l'abbiamo trovato Abbiamo trovato il villaggio Abbiamo trovato il villaggio Ci sono anche tanti polli Questa è una cosa importante Potremmo avere due opzioni Opzione 1 La mega ferrovia Da casa nostra Che arriva fino a qua E tanti cari saluti Opzione 2 Che mettiamo il lettuccio E dormiamo tutti quanti contenti E carini Zio Io dormo con te Non ti preoccupare Ci facciamo compagnia E siamo tutti contenti Dormi Ok Scusa Zio Televita va Questo è il letto mio Non lo condivido con nessuno Il mio letto Eccolo qua Ma guarda questo Che sei fregato il letto mio Vatti a cercare un altro letto Va Questo è mio Ok Perfetto signori Ce l'abbiamo fatta Sono pienamente soddisfatto Pienamente soddisfatto Il sole è alto E noi siamo soddisfatti Signori Abbiamo il nostro villaggio L'abbiamo trovato Con il letto in mano Ma siamo contenti Detto questo signori Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i giudizi e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao